Che dire ragazzi, oggi inquadratura un po' così, mi appresto a rientrare a Torino, sono ancora a Firenze e quindi nella giornata di oggi poi cercherò anche di recuperare la gara per analizzarla, per guardarla meglio perché in presa diretta comunque, lo sapete, magari devi fare il pezzo partita, le pagi delle due squadre, il pezzo personaggio, devi stare attento all'atmosfera, perdi qualche sfumatura dell'incontro, però complessivamente credo di avere ben chiaro come sia andato l'andamento di ieri, non perché fossi presente al Franchi e quindi ho avuto l'opportunità di vedere la partita, bensì perché mi sembra che il carovaccio tattico sia stato piuttosto elementare ovvero con la Fiorentina a fare la partita e con la Juventus che nel primo tempo, diciamo che ha attuato un atteggiamento volutamente remissivo optando per un piano gara abbastanza scolastico, un piano gara che contemplava comunque anche la presenza di calciatori probabilmente non inseriti nel loro abitato naturale dal punto di vista tattico, su tutti Ache, è vero, la partita di Ache è durata 45 minuti, è stata una brutta partita, Ache all'esordio al primo minuto con la maglia della Juve, però poi bisogna anche studiare i percorsi dei calciatori e bisogna anche capire dove uno possa fare potenzialmente la differenza o quantomeno possa rivelarsi utile invece Ache probabilmente ieri ha sofferto molto il fatto di dover giocare a tutta fascia, chi lo segue un pochettino sa che si stia parlando di un calciatore un po' più offensivo quindi se lo inserisci in un tridente magari senza compiti di copertura o cessivi compiti di copertura può ben figurare se lo vai a inserire lì nel 3-5-2, a tutta fascia, in una semiscinale di Coppa Italia, in un ambiente ostile come quello di Firenze può succedere quello che è successo, ovvero far emergere evidenti lacune strutturali nel primo tempo la Juve ha rischiato, ha rischiato con Icone che secondo me ha avuto la meglio in lungo e in largo ieri su De Sciglio ha rischiato anche da punto di vista il possesso perché la Firenze è una squadra che fa le cose bene le fa con una velocità di esecuzione interessante, è una squadra che ha idee e anche qualità è ripresa meglio la Juve, è ripresa meglio perché mi sembra che con gli inserimenti di Quadrado che ultimamente non è che fosse al top, però ieri ha spaccato la partita oggi ho letto molti titoli, ho letto anche molti commenti sui vari social Juventus è sfortunata, è vero la Juventus è stata fortunata perché ha vinto 1-0 a Firenze grazie all'autorete di Venuti al 92esimo, ma la Fortuna te la venerà a cercare Rabiot quel possesso se lo va a creare, Quadrado sulla destra va a spondare e quindi è un atteggiamento positivo cercare di capire la stanchezza dell'avversario la difficoltà in quel preciso momento dell'avversario però a raccolpirlo come ha fatto la Juve quindi fortunata, innegabile, ma la fortuna, lo ribadisco, te la devi andare a cercare questo è un risultato ragazzi importantissimo, non solamente ai fini della potenziale qualificazione in finale di Coppa Italia, bensì perché quando ti presenti al Franchi praticamente con 13 giocatori, perché la Juve ieri ha effettuato solamente due sostituzioni ed erano anni, soprattutto poi con i cinque cambi che non vedevo concessi due minuti di recupero nella ripresa, ciò significa che davvero la Juventus sia andata con i calciatori contati da tal parte ce n'erano nove auto più Bonucci a mezzo servizio, anche dei Vinter fuori quindi è una Juve che non è che avesse grandissime possibilità di fare una bella partita a Firenze ha fatto quello che doveva fare, cercando di impostare la qualificazione con poi il ritorno a Torino una partita che deve completare l'opera, ma onestamente io mi aspettavo proprio questo canovaccio tattico non mi aspettavo nient'altro di differente, così come mi aspettavo la stessa Fiorentina nel senso che è una squadra che, lo ribadisco, gioca bene in qualunque partita può anche dominare l'avversario dal punto di vista del gioco dei movimenti e della volontà di fare la partita però questo è un risultato molto importante, considerando come anche alle porte ci sia la partita con lo Spezia come ci sono stati tanti impegni ravvicinati con pochi giocatori disponibili e quindi quando ti trovi in una situazione di totale emergenza perché la Juve in totale emergenza devi essere esclusivamente, per come la vedo io, un risultatista devi pensare unicamente al risultato poi, ovvio, ci sono tanti commenti anche qui sul fatto che comunque la Juventus applichi un gioco rinuncetario un gioco retato maggiormente e esclusivamente sulla difensiva queste sono analisi che ci stanno ma che secondo me vanno effettuate nei periodi giusti cioè, analizzarmi la Juve in questa maniera all'inizio stagione, secondo me era giusto è giusto perché la Juve all'inizio stagione ha sbagliato determinate partite ha giocato un non calcio se vogliamo definirla così ma ora pensare invece all'estetica allo sviluppo della manovra quando hai 13 giocatori per me è un'analisi che non esiste sono molto sincero ragazzi poi, ognuno la pensa come vuole ci sono le analisi da fare ma nei periodi giusti e questo non è il periodo di pensare al gioco quando ti ritrovi a dove mettere a che a destra tutta fascia l'auto di sinistra con Pellegrini e De Sciglio schierì tutti i centrodampisti che hai non è che puoi fare grande calcio e non puoi pensare all'estetica per come la vedo io però, ognuno è giusto che abbia la sua opinione cosa resta di questa partita al di là del risultato? l'autostima perché quando tu vinci gare di questo genere contro avversari così tosti vai al campo e la continuassi inevitabilmente con un altro spirito con un altro umore alto umore e questo è importante questo è importante perché comunque non abbiamo ancora ben capito dove possa arrivare complessivamente la stagione della Juventus però è importante cercare di creare più strade possibili c'è quella che deve portare a raggiungere il must ovvero entrare tra le prime quattro in campionato c'è la concreta opportunità di andare in fine di Coppa Italia c'è l'obiettivo l'obiettivo è di andare ai quarti di Champions se non sarà semplice in funzione dell'1-1 ottenuto allo stadio della ceramica contro il Villareal però stiamo parlando di tre percorsi differenti complicati perché comunque questa Juventus se dovesse iniziare a specchiarsi sarebbe un problema questa è una Juve che deve temere soprattutto se stessa ma quantomeno c'è un po' di brio e questa è la cosa più importante perché onestamente ragazzi attorno a novembre io non ero convinto assolutamente che la Juventus potesse creare una stagione di questo tipo pesato potesse andare molto a molto peggio è chiaro che chi ti fa Juventus è abituato all'elite è abituato a primeggiare in Italia con un bel percorso in Europa perché comunque fino al 2015 fino al 2017 la Juventus in fine di Champions c'è arrivata ma non bisogna vantarsi di averle perse per come vedo io e quindi è un percorso un percorso complicato un percorso un pregno di insidie di ostacoli ma è bello è bello comunque parlare di una potenziale finale Coppa Italia è bello parlare di un potenziale piazzamento momentario tra le prime 8 d'Europa se la Juventus riuscisse a superare i Villareal è bella questa rimonta in campionato mettere pressione comunque ad alta quota è sempre cosa buona e giusta insomma pian piano comunque dal punto di vista dei risultati la Juventus si sta mettendo in carreggiata c'è qualche rimpianto secondo me legato alla prima parte di stagione perché se guardiamo tutti i punti buttati in campionato e se guardiamo anche il livello della Serie A c'è davvero da voi mettete le mani ai capelli e quindi da questo punto di vista da questo punto di vista io sono abbastanza positivo nel senso che vedere comunque dal punto di vista dei risultati un'evoluzione è confortante è confortante proprio per vivere la parte decisiva della stagione con qualcosa da raccontare con qualcosa da vivere comunque con questo 1-0 che la Juventus ha rifilato in casa sua alla Fiorentina ragazzi scappo vado a prendere il treno si torna a Torino si inizia a preparare la partita con lo Spezia vedremo se ci saranno notizie confortanti oggi sul tema recuperi perché Paolo Di Bala Daniele Rugani e Federico Bernardeschi sono a un passo da rientro tutti e tre dovrebbero essere convocati contro lo Spezia e comunque già avere tre giocatori in più nelle rotazioni è cosa decisamente buona e giusta un caro abbraccio ragazzi e mi raccomando se vi piace questo canale iscrivetevi lasciatemi il vostro like alzate la campagna per rimanere aggiornati sui movimenti e voglio una pioggia di commenti un abbraccio grazie